Welcome back per la nostra ultima lezione di pronuncia. Nelle settimane scorse abbiamo visto come pronunciare la schwa, la r, il tr. Oggi vediamo un altro gruppo consonantico piuttosto ostico per noi italiani e cioè il th. Innanzitutto perché gli inglesi, tanto per complicarci le cose, hanno pensato bene di fare due pronunce diverse per questo gruppo consonantico che sono una quella che si chiama pronuncia sorda cioè che non coinvolge la vibrazione delle corde vocali che ha questo simbolo fonetico qui e che troviamo in parole come thank you, think, thought, three. L'altra che è la pronuncia sonora dove invece c'è la vibrazione delle corde vocali che ha questo simbolo fonetico qua e che troviamo in parole come this, that, there. Per ricreare il suono del gruppo th, nello specifico il suono sordo, quello senza la vibrazione delle corde vocali, prova a pensare a un serpente che sibila. Mentre per l'altro suono, quello invece sonoro, prova a pensare a un insetto, come potremmo fare quando c'è un insetto che vola, ma non è zzz, prova a mettere una mano sul collo e a fare i due diversi tipi di pronuncia sorda e sonora e vedrai la differenza. Ti ho indicato i simboli fonetici non perché tu debba essere un'esperta di fonetica per carità ma siccome in ogni dizionario solitamente dopo la grafia c'è all'interno della parentesi come viene pronunciato foneticamente e quindi con i simboli che ti ho appena dato, se anche non ti ricordi capirai leggendo quale delle due dovrai usare, se la pronuncia sorda o se la pronuncia sonora. Tutto chiaro? Non ti resta che divertirti a cercare le parole. Thank you! Grazie a tutti!